si preparano per le foto con i fotografi mi vedo un po' con la faccia ma perchè? ti hanno obbligato? vorrei andare a ballare a Cocoricò? anche voi però chi è? eccolo lì che arrivano sono arrivati anche gli alieni stanno arrivando gli alieni alla sua Bologna guardateli, ci hanno invaso salutiamoli dal pianeta da che pianeta arrivi? ah ho capito, perfetto guardate come si è ridotto qua alla sua Bologna una sfida pazzesca intanto è arrivato di corso di corso di B qui? perfetto devi finire così so che non ne avevi voglia però quando hai 18 anni decidi cosa fai eccola qui direttamente tutto bene? al corso di Bologna che eleganza eccole qua guarda tu quando stai leggendo il giornale ti stai perso con la cartina dai ragazzi che dovrebbero andare a mangiare non è che bisogna aspettare sempre voi tutti gli anni per la cartina non è che bisogna non è che bisogna